Ciao, sono Joe Sant'Anastasia di tuttologistica.it. In questo video ti parlo di 7 cose che devi assolutamente sapere se stai pensando di acquistare un soppalco industriale. Sigla! Hai bisogno di installare un soppalco industriale nella tua azienda? Non ti devi preoccupare, per installarlo non devi fare nessuna modifica al tuo capannone. Devi solo sapere che se ricavi un ripostiglio l'altezza è di 2,40 m, se ricavi un ufficio l'altezza è di 2,70 m, per uso-produzione è di 3 m. 2. Prima di realizzare il soppalco devi sapere che c'è una zona sismica. Cercando su internet puoi individuare il tuo paese e capire se ti trovi in una zona fortemente sismica. 3. Per installare un soppalco bisogna tenere conto delle normative sulle costruzioni e dei regolamenti regionali e comunali, ma stai tranquillo, pensiamo a tutto noi. 4. Un soppalco ti permette di raddoppiare la dimensione della tua azienda, raddoppi lo spazio calpestabile e spendi molto meno rispetto all'opzione di acquistare un magazzino più grande. 5. L'altezza minima dei parapetti è di un metro, ma puoi personalizzarli a piacere. 6. Al soppalco si possono montare diverse vie di accesso, una scala, un montacarichi o delle gabbie basculanti. Tutta Logistica.it ha pubgettato dei soppalchi che utilizzano un sistema di fixaggio ad incastro brevettato. Puoi personalizzare la pavimentazione, il nostro ingegnere possiede una mente analitica creativa in grado di superare tutte le difficoltà del caso. Contattaci per approfondire. Per oggi è tutto, iscriviti al canale per rimanere aggiornato sui prossimi video. Io sono Gio e questa è Tutto Logistica. Ciao!